Allora, questo è un aggiornamento del progetto LIFE, di un progetto LIFE che abbiamo in corso che si chiama LIFE I'M TAN. Non vorrei stare davanti a nessuno. È un progetto di tre anni, di lunghezza, e riguarda la sostenibilità, l'impatto ambientale dei tanini e stratti vegetali usati in conceria. È un progetto che è situato in centro-nord Italia, in provincia di Cuneo, in zona Treviso e zona Pisa. Qualche numero del progetto ha un budget di 2 milioni e 3, finanziato al 55%. Il progetto è partito circa un anno fa. Abbiamo un partner coordinatore che ha presentato il progetto, che è Silva Team, e altri quattro partner CRCF, Crossing, Conceria Incas e Acquarno. Gli obiettivi principali del progetto sono soprattutto sull'impatto ambientale e sull'eco design. Sull'impatto ambientale, sulla riduzione, portando a zero l'impatto dei chemicals, riducendo del 25% il carbon load e riducendo del 30% il consumo di acqua nella conceria. Sull'eco design puntiamo ad avere degli scarti di lavorazione che possono essere utilizzabili per produrre fertilizzanti e additivi per alimentazione animale. Poi lavoreremo sulla replicabilità di questo progetto anche in altre concerie in Italia e all'estero, oltre a quella che c'è dentro il progetto, e faremo degli studi di impatto ambientale, LCA, certificazioni, Ecolabel e quant'altro. Lavoreremo su tre tipologie di pellami, conciate al cromo, conciate con sintetici e aldeidi, e conciate con tanini naturali. Qui un po' di numeri, ma sostanzialmente andremo a ridurre l'impatto delle conce tradizionali di questi articoli. Per fare questi articoli oggi servono, per esempio, 90 kg di cromo rispetto a tonnellate di cuoio, conteremo di abbassare il 100% di questo consumo. E via dicendo, il 100% di consumo di aldeidi, fenoli e bisfenoli nelle pelli, e riduzione dell'impatto sulla produzione di acqua o carico di carbonio negli scarichi delle concerie, 30% di acque riciclate, riduzione del carico di carbonio, riutilizzo degli scarti e dei sottoprodotti provenienti dal processo di produzione. Il progetto ha delle notevoli implicazioni a livello di regolatori, infatti è in sinergia con diverse normative europee, sia quelle che riguardano gli inquinamenti industriali, e dentro i roadmap del Green Deal europeo. Sicuramente sarà implicato dalla normativa sul RIC, in quanto andremo a produrre delle cose che andranno probabilmente registrate secondo questa normativa. è basato sui principi dell'economia verde circolare, e considera il riciclo e la prevenzione dell'inquinamento, secondo quell'altra normativa, e protegge i lavoratori, la salute e la sicurezza dei lavoratori, secondo quell'altra normativa. Insomma, queste sono un po' di normative che sono coinvolte durante il progetto. Uno schema generale dell'attività chiave nel progetto riguarda la produzione, soprattutto di questi CMNT, che sono questi prodotti modificati che andremo a fare. Partiamo dalle foreste di castagno e chebraccio, una pianta tropicale, andremo a estrarre nella maniera tradizionale con cui si estraggono queste due materie prime, faremo dei trattamenti di basso impatto a livello industriale, da cui si potranno recuperare le acque, sicuramente per fare le fasi di estrazione, e da cui andremo a produrre delle sostanze che andremo a testare in altre applicazioni. Questo è il punto chiave del progetto, sostanzialmente. Questi trattamenti di basso impatto, che andranno a produrre queste sostanze, questi tannini naturali modificati, i quali andranno durante il progetto a produrre delle pelli conciate con questi prodotti, che le pelli potranno essere utilizzate per fare fertilizzanti organici, quindi adatti all'agricoltura biologica, e durante la produzione del cuoio, dei pellami, gli scarti potranno essere utilizzati anche loro per fare fertilizzanti organici adatti all'agricoltura biologica. Ci sarà una valutazione delle acque di scarico, perché avranno, avendo un minore impatto di carbonio, avranno un minore impatto ambientale, alla fine potranno essere riciclate di più all'interno dei processi conciari. Il progetto è diviso in fasi, in actions, la fase più impegnativa è l'action B, che sono tutte le azioni concrete che servono per sviluppare la tecnologia del progetto, ci saranno a monte delle fasi preparatorie, e a valle delle fasi di valutazione dell'impatto di questa tecnologia, e di dissemination, networking e project management, ovviamente. Qui un dettaglio delle action, non vi sto ad annoiare. I partner del progetto sono queste cinque aziende, Silva Team, che è il coordinatore, come dicevo, Acquarno, che è, beh, dopo vi spiego meglio, Crossing, Incas e CRCF. Per ciascuno di queste faccio un piccolo passaggio. CRCF è un partner di sviluppo tecnologico con esperienza di produzione dei tannini naturali e della loro chimica, dello scale up dei processi che riguarda l'industrializzazione, i processi che riguardano le biomasse. Nel progetto farà delle fasi di purificazione e di trattamento in laboratorio di questi estratti tannici naturali. Crossing è un partner di derivazione accademica, fanno normalmente ottimizzazione dei processi e scale up dei processi chimici intorno alle biomasse, modificazioni di polimere e biopolimeri. Per il progetto faranno delle produzioni in scala da 1 a 10 kg di tre tipologie di protocolli e forniranno a CRCF e Silva Team supporto nello scaling up delle produzioni di questi tannini modificati. Silva Team è un'azienda che produce dal 1856 in mezzo alle vallate nei boschi di castagno, produce da materie prime locali e a diversi stabilimenti di giro per il mondo da cui produce da altre materie prime locali. Nel progetto farà la produzione e la caratterizzazione di articoli pellami fatti con questi prodotti nella propria conceria sperimentale, metterà a punto le ricette ottimizzate per Incas e farà la valutazione del business plan e dell'impatto di reach e valutazione di certificazioni di questi prodotti nonché la valutazione della replicazione e trasferibilità di questa tecnologia in altri settori. Incas è una conceria specializzata da 50 anni a fare particolari pellami conciate al vegetale, esperti anche nella gestione dell'impatto ambientale particolare legata da queste lavorazioni. Nel progetto farà una valutazione su scala semi-industriale di questi pellami che si potranno produrre e farà la valutazione degli articoli che si possono produrre con questi tannini per calzatura, arredamento e varie tipologie di articoli comparandole con i benchmark che abbiamo definito all'inizio del progetto. Acquarno è il partner che si occupa di valutazione di trattamento dell'acqua di scarico e nel progetto farà l'analisi dell'acqua di scarico che provengono dalla conceria sia dalla conceria Incas che dalla conceria Silva Team sperimentale per capire l'impatto che hanno le nuove acque rispetto a quelle tradizionali. Questo è uno schermino sulla continuazione replication, transfer and market uptake del progetto semplicemente i progetti live devono essere transferibili e devono avere un impatto sul mercato notevole. Questo è un gant dell'attività del progetto senza addentrarmi nei dettagli dunque come dicevo prima ci sono delle attività che sono il cuore del progetto che sono queste qua le attività del gruppo B e siamo in questo momento qua secondo il ganto originale in cui queste attività preparatorie sono le uniche finite e dovremo essere quasi a metà di queste attività qua che sono lo sviluppo nel concreto della tecnologia per fornire i prodotti alle concerie per lavorare con la prima parte in laboratorio e da qualche mese in avanti da qui in avanti attività a livello pilota. Nella realtà questa è una bella stanza vuota in cui gli impianti purtroppo non ci sono ancora perché i fornitori e i fornitori di impianti sono in crisi e per cui niente aspettiamo dovrebbero arrivare nel giro di un mese o due tutti questi impiantini qua che riempiranno questa stanza. Per adesso abbiamo fatto tutte le fasi a monte in laboratorio sia noi che tutti parlano. quindi abbiamo definito qui adesso vi racconto un po' della fase l'action A che è quella in cui abbiamo identificato i benchmark gli articoli benchmark contro cui andremo a paragonarci. quindi abbiamo definito tre tipologie di articoli quelli conciati con cromo quelli con tannini sintetici aldeidi e con tannini naturali in ciascuno di questi tre tipologie di articoli abbiamo definito articoli fatti con vitello e con come si chiama in italiano baby calf vabbè vitello e ok così calf baby calf in ciascuno di questi abbiamo identificato due tre quattro cinque articoli diversi ognuno di questi ha richiesto la messa a punto di una ricetta e identificando la quantità di ogni prodotto necessario nella ricetta industriale quindi col partner a Quarno che è una conceria vera e propria non come Silva Team che è una conceria piccola sperimentale ma una conceria vera e propria con il loro aiuto abbiamo messo a punto la tipologia di articoli e le ricette che erano necessarie per fare questi articoli per ciascuno di questi abbiamo fatto ovviamente pellami e ricette per produrre i bagni di concia i pellami le analisi dei bagni di concia le analisi dei pellami questi qua sono tutti gli articoli che se vi interessa sono disponibili ce l'ho qui un plico da vedere oppure nel boot di Silva Team sono a disposizione abbiamo prodotto con questi pellami dei documenti perché tutti i progetti finanziati servono dei documenti per provare il lavoro che è stato fatto e abbiamo prodotto due deliverables una sulle ricette una che riporta le ricette e i prodotti utilizzati e le tecnologie necessarie per fare tutti gli articoli un altro deliverable con le acqua di scarico le analisi dell'acqua di scarico e dei pellami prodotti questi sono in generale i goal che dovremmo raggiungere durante il progetto quindi come dicevo la diminuzione dei sali di cromo allo 0% 0% dei fenoli riduzione del 25% dei tanini naturali necessari per conciare il 30% di recupero dei bagni di concia meno 60% di consumo di acque riduzione del 25% del carico di carbonio nelle acque di scarico 80% di recupero dei sostanze non concianti e produzione di articoli comunque riciclabili al 100% questi sono i canali su cui siamo presenti su cui diamo degli aggiornamenti se interessa seguirci o diventare stakeholders ufficiali del progetto contattateci attraverso il sito web e vi daremo istruzioni un ringraziamento particolare ai partner tra l'altro Silva Team è nella Hall 15 al boot U17 V18 Incas è nella Hall 13 al boot A12 A29 B12 B30 un ringraziamento al programma Life dell'Unione Europea e questo è tutto vi ringrazio l'Unione Europea 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 l'Unione Europea